coca cola analisi mensile novembre 2020 aggiornamento su questo titolo che ha visto la sua prima analisi ormai credo a maggio giugno quindi nell'aggiornamento dei titoli statunitensi vediamo di aggiornare questo titolo così importante insomma nel portafoglio di tanti allora avevamo evidenziato un paio di fasce di prezzo io andrei subito a segnare come ormai è mia consueta abitudine il minimo della candela di marzo il minimo della candela di marzo che corrisponde a questa fascia di prezzo che avevamo già evidenziato ok e che possiamo dire che in precedenza ci sia uno swing nel 97 guardate questo swing testato qua di nuovo insomma non è che ha particolare evidenza in passato qua abbiamo questa fascia di prezzo che avevamo evidenziato perché da quando era partito il prezzo da marzo del 2012 poi era stato ritestato un po' di volte questo livello vediamo però di capire in che range potersi muovere insomma e che cosa è successo in questi mesi da maggio giugno allora andrei a segnare come ho fatto questo livello del minimo di marzo ma andrei anche a segnare questo livello del minimo di marzo su febbraio venduto appunto da marzo su febbraio in questo momento sembrerebbe la candela di novembre volerlo rompere ma a tutti gli effetti dobbiamo aspettare che la candela chiuda quindi la candela di novembre vada a chiudere per poter veramente verificare e capire se questo livello effettivamente verrà comprato verrà rotto quindi quest'area diciamo che era stata venduta o invece resisterà con quindi con i venditori che la faranno da padroni su questo livello in precedenza abbiamo già visto che questo livello proprio ha funzionato vedete come nella candela rispetto alla candela di settembre il prezzo si è poi quattornato indietro quindi questo è stato preso come un target da chi era long da più in basso è un po è uguale di nuovo con la candela di ottobre che si è spinta praticamente fino al livello di 51 per poi addirittura andrà a chiudere in rosso a 48 dollari la candela di novembre attuale appunto abbiamo visto su tutti gli indici e anche su tutte le azioni un po di spinta dovuta a questa attesa e questa aspettativa che c'era sul sulle elezioni presidenziali usa adesso sembra che stia già stornando e tornando indietro massimo di questo mese a 54 59 circa 54 50 adesso siamo a 52 quindi quasi 2 euro e vediamo appunto quello che sarà la chiusura del mese di novembre molto indicativa per noi perché questo livello di di tetto diventa molto importante come spartiacque vedremo se la candela quindi primo primo indizio se la candela chiuderà sopra o chiuderà sotto di conseguenza probabilmente chiuderà sotto anche se chiudesse sotto chiuderà sotto anche questi massimi quindi non riuscendo neanche a comprare i massimi del mese dei mesi scorsi questo sarà molto indicativo e se probabilmente presupporrà un ritracciamento che andrà anche sotto di nuovo questi livelli a questo punto il primo livello che abbiamo segnato utile è a 36 quindi molto distante potremo segnare dei livelli intermedi che potrebbero essere sicuramente uno potrebbe essere questo che livello segnato segnato il livello della candela del minimo della candela di aprile perché vedo che rappresenta anche in passato un livello già testato su cui il prezzo diciamo si è un po' dimenato come dire si è un po' avanti indietro avanti indietro quindi questo livello di 40 praticamente 41 è un livello sicuramente molto molto interessante che potrebbe essere chiaramente un primo ingresso un primo livello da raggiungere del prezzo nel caso in cui il prezzo cominciasse a stornare potrebbe essere un primo livello diciamo più significativo poi ripeto come dico spesso noi abbiamo tutti i minimi dei mesi precedenti che in riassorbimento potrebbero essere utili da agganciare per appunto operazioni anche di più di più breve durata di più breve raggio ok quindi tutti i mesi dei mesi tutti i minimi dei mesi precedenti possono rappresentare un come si può dire un ancora di a cui agganciarsi però nell'ottica in cui vogliamo ragionare sempre sul lungo periodo dobbiamo cercare e lo ripeto fino alla nausea di aumentare la possibilità di avere un miglior rischio rendimento quindi money management più oculato e quindi sicuramente queste fasce di prezzo di 41 e poi 36 sono sicuramente le fasce migliori su cui andare a operare il grafico malgrado il prezzo da aprile ad adesso abbia diciamo fatto vedere un recupero del titolo fino all'area 51 52 non in questo da questo punto di vista non si preannuncia un un grafico un titolo un prezzo che ha dimostri forza e che quindi possa andare a rompere addirittura i massimi precedenti malgrado il titolo come possiamo vedere se se stringiamo se allarghiamo è un titolo molto forte molto valido su cui è molto interessante porre l'attenzione e che quindi con la candela di marzo ha dato un enorme vantaggio e possibilità a chi si è posizionato long però dopo dopo la candela di marzo fondamentalmente sostanzialmente non ci ha dimostrato una gran forza perché è vero sì che ha recuperato ma il prezzo non è mai riuscito stabilmente a chiudere sopra i massimi dei mesi precedenti dimostrando che la volontà dell'operatore la volontà dell'investitore è una volontà di arco temporale inferiore al mese perché poi tutte le volte il prezzo ha stornato e tornato indietro quindi con chiusure di posizioni da parte di chi era long quindi niente fondamentalmente direi che ci si può aspettare verosimilmente una ripresa della discesa fino fino anche a questo primo livello di 41 e magari magari speriamo potrebbe essere bello vedere il prezzo di nuovo a 36 nel caso in cui il prezzo invece continui invece dimostri successivamente una forza tale da chiudere sopra questo livello allora sappiamo come comportarci aspetteremo mensilmente una chiusura sopra questo livello e sul ritest dall'alto di questo livello che diventerà quel punto un pavimento non più un tetto potremmo cercare degli ingressi sulla cifra tonda addirittura ad esempio su 50 51 degli ingressi long riposizionandoci da quella parte del mercato è chiaro che dobbiamo necessariamente avere un'evidenza del mercato di forza di voglia veramente di instaurare di nuovo un buon trend e la voglia di attaccare questi massimi assoluti a 60 quindi questa deve essere l'intenzione abbiamo le nostre indicazioni non ci resta che aspettare di vedere la chiusura di questo mese e poi la candela di dicembre che cosa che indicazioni ci darà